E che cosa ha provato quando ha sentito il rumore? Che cosa ha pensato? Subito sembrava come un terremoto. Poi siamo usciti sul balcone e abbiamo visto una nuvola di fumo e il treno nel prato. Quindi il cassone mi sembrava la casa che era scesa giù. Sì, il cassone e la casa che era scesa giù. Il tir l'avete visto? No, il tir io non l'ho visto. Lei che cosa ha fatto? Poi è andata a soccorrere o è rimasta a casa? No, io subito ho telefonato al 113 per chiamare i soccorsi. E mi hanno risposto dopo dieci minuti perché la chiamata era registrata. Poi mi chiedevano dove era successo, quando era successo, se c'erano dei feriti, io gli ho detto che c'erano dei feriti e un morto. Lei l'aveva visto il morto? No, io no, l'ha visto mio marito, chiedevo informazioni a mio marito. Va bene, perfetto. Quindi ci hanno messo dieci minuti, diciamo, a prendere in carico... Sì, e poi hanno chiamato i pompieri e le ambulanze. D'accordo. Perfetto, grazie.